A Pertosa sarà realizzato un sistema di bike sharing. Stiamo attendendo l'arrivo delle bici, conferma il sindaco Domenico Barba. L'idea è quella di collegare le grotte con il centro del paese, quindi anche al Museo Speleo Archeologico, rendendo lo spostamento sostenibile oltre che un momento turistico esperienziale. Inizieremo con poche bici prese con i fondi che siamo riusciti ad avere, tuttavia l'idea è quella di ampliare, assicura il primo cittadino. Si tratta dei contributi in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti che il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 2 luglio ha messo a disposizione per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 37 milioni e mezzo di euro ripartiti tra i 1.940 piccoli comuni italiani, a ciascuno dei quali sono stati assegnati a fondo perduto poco più di 19.000 euro. 31 gli enti che ne hanno beneficiato in provincia di Salerno, tra questi figurano Salvitelle e Pertosa. Qui nel paese delle grotte l'ente ha deciso di investire i contributi sullo sviluppo territoriale sostenibile e quindi sulla ciclo mobilità. Biciclette a pedalata assistita potranno essere affittate ai cittadini e ai turisti che avranno a disposizione anche un'idonea cartellonistica adatta anche ai bambini e alle scuole per raggiungere i siti di interesse storico-culturali. In questo modo la sensibilizzazione all'uso della bici sarà coniugata con la scoperta delle bellezze locali, per un turismo sempre più lento ed ecologico che permette di guardarsi intorno con più consapevolezza. Il progetto inoltre si sposa con l'esigenza, resa più urgente dalla pandemia, di riflettere su nuovi modi di spostarsi.